Ciao, siamo qui a Malpensa, siamo in partenza per il prossimo tour. Andremo in Nepal, Kathmandu, Ridarabad in India, Jaipur, prossimi tre giorni, ci vediamo dopo. Ciao! Ok, ho i Burle Fronti, questa sera, senza club Kathmandu. Ok, secondo giorno di tour, siamo arrivati adesso a Ridarabad. Adesso facciamo un giro qua, cena, doccia e poi Prism Club. Cosa mangi? Non lo so, lo scopriremo. Sembra piccante, sembra che il colore di questo è abbastanza piccolo. Io ero a fuoco. Con l'azione velocissima, voglio andare per sotto, ci portiamo in aeroporto per Jaipur, stasera a June's Festival. Ci vediamo lì. Ok, siamo qui, siamo vicini a un cobra e dobbiamo fare un minimo di attenzione, ma... Siamo qua con il nostro amico DJ Ravish, andiamo qua al Fort Ember, adesso entriamo, ma non si potranno fare riprese. musica 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 Siamo giunti alla fine del tour in India Si va in aeroporto, si torna a casa Ci vediamo presto, ciao